C'è attesa fra i lavoratori della Treofan per l'incontro al Mise in programma lunedì alle ore 15 al quale dovrebbero partecipare tutti gli attori coinvolti nella vertenza. La speranza è che si avvii l'iter per arrivare ad un accordo e scongiurare così la chiusura dello stabilimento ed il licenziamento dei dipendenti. A fare il punto della situazione, il delegato sindacale della CISL Alberto Padula è l'esponente della CGL Anselmo Botte. Speriamo almeno che venga qualcuno che abbia potere decisionale. Abbiamo spostato gli appuntamenti tutti presso il Ministero per rendere il tavolo un po' più alto di livello, non per sminuire chi avrebbe dovuto rappresentare, ma per il semplice fatto che ci vorrebbe qualche azione incisiva del Governo. Speriamo che prima o poi la facciano nei confronti di chi viene chiamato e non risponde. Anche le procedure di licenziamento sono state trasferite dalla Confindustria al Mise? Sì, sono state trasferite come tavola, come ti dicevo, presso il Ministero. Stiamo in attesa che il Ministero accolga questa nostra richiesta. Per discuterne con loro speriamo di aprire un po' con la rosa delle possibilità per vedere di risolvere il problema, se ci riusciamo. Avete avuto modo di parlare con qualcuno del Ministero, anche contatti non propriamente ufficiali, ma che comunque diano un po' il polso della situazione? No, tranne sul fatto che quando sono stati convocati gli ambasciatori indiani, presso il Mise, che ci hanno detto che in effetti anche loro hanno difficoltà a rintracciare la proprietà Gindal, non ci sono stati più contatti. In effetti hanno fatto questa convocazione, penso stiano lavorando, a si spero stiano lavorando, e portino lunedì qualche cosa di concreto da poter mettere in campo. La protesta nel frattempo continua? Sì, sì, noi siamo al presidio sempre, H24, stiamo continuando nonostante il tempo, nonostante molti di noi sono malati, che purtroppo fa freddo e quindi stiamo continuando. Sentite la vicinanza della città di Battipaglia? Sì, 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 questa è un'affermazione che possiamo fare con piena certezza. La città di Battipaglia? Il sindaco? Voi tutti della carta stampata e delle comunicazioni? Si tratta di capire se il governo, perché qui il ruolo centrale per la risoluzione di questa avvertenza è il governo, se il governo è in grado di mettere in piedi una legislazione, in tempi anche molto rapidi, per impedire che questo succeda, cioè che succeda che un'azienda che è in salute, che produce utili, che ha un mercato, chiuda dalla sera alla mattina. Ripeto, senza nessun tipo di logica economica dietro, ma solo speculativa. Tanti lavoratori, insomma, ieri hanno detto di essere davvero esasperati, si teme anche un po' che possa esplodere la tensione. Ma sì, anche perché sono lavoratori che stanno su un territorio che è già molto provato, ci sono state molte aziende che hanno chiuso Pife, Termopife, Alcatel, colleghi che stavano a quattro passi da loro, e non si vede una soluzione, ci sono altre aziende in sofferenza, noi per questo stiamo pensando anche di fare uno sciopero di tutta la Piana del Sele.